Il Lander Lunar Intuitive Machine Novacy Odysseus si è spento, rilasciata nuova immagine. Praticamente con i video dell'Odisseus che ho dovuto ricaricare per ragioni di copyright, mentre in realtà non si trattava altro che di eliminare documentazioni veramente ridicole, siamo arrivati alla trasmissione finale, o meglio alla frutta, e hanno scelto di liberarsene per non fare altre brutte figure. Un saluto amici. Prima che la sua energia si esaurisse, Odysseus ha completato la sua trasmissione di Addio, che abbiamo ricevuto oggi con questa immagine del 22 febbraio, che mostra una Terra crescente sullo sfondo, un sottile promemoria della presenza dell'umanità nell'universo. Buonanotte, Odysseus. Speriamo di sentirci ancora. Questo che vediamo non è altro che un ingenuo credulone con un intelletto di eroe greco che crede di essere scaltro, ma è semplicemente caduto nella pantomima che si basa solo su un paio di immagini. Fine della storia. È l'esempio dello schiavo mentale. Non ha alcun carattere. Gente del genere fanno parte della pantomima di questa stupida sciarada. Il 22 febbraio 2024, gli strumenti della NASA e le tecnologie a bordo della macchina intuitiva nuova C-class Luna Lenter chiamata Odysseus è atterrata sulla Luna nella regione del Polo Sud, segnando il primo ritorno degli Stati Uniti dall'Apollo 17. Questo è il primo allunaggio che fa parte dell'iniziativa dell'agenzia commerciale Luna Payload Service che ha trasmesso validi dati scientifici di ogni carico della NASA dalla superficie lunare. Gli unici dati scientifici che ci hanno dato sono solo un'immagine. Un'immagine ridicola che si vede qui. I supporti sembrano che siano stati riparati. Prima erano rotti e Lander era caduto di lato. Ma ti diranno No, no! Era prima dell'atterraggio! Comunque sia, è imbarazzante. È ridicolo. Solo i creduloni possono credere ad una cosa che vogliono far passare come un successo. Una cosa che non è nemmeno live. Non si può credere a questo nemmeno per un secondo. Solo dei veri nerd come questo possono cadere dentro una menzogna del genere.